ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video vi faccio vedere quello che è stato il regalo del maritino per natale immaginate già cos'è perché dalla forma che cosa potrà il nuovo apple watch vi dico già che l'altro mi è esploso quindi praticamente io avevo quello della serie 1 e un giorno mettendolo sotto carica la mattina me lo sono trovato con lo schermo rialzato e quindi sono rimasta senza e vabbè fino ad oggi però allora iniziamo lo spacchettamento sono molto emozionata ovviamente ero sbagliato tutti quanti spacchettano nel modo giusto io no quando mai questo è il cinturino e qui c'abbiamo ecco qua ecco qui dentro la sua custodietta questa volta l'ho scelto silver perché l'altro era rosa gold diciamo che mi ha un po stufata e quindi sono andata sul silver e poi vi faccio vedere in dotazione c'era carica batterie il filo ecco il cinturino che semplicemente quello sport un cinturino sport bianco che adesso andrò a mettere su eccolo qua si sta accendendo adesso devo procedere con la configurazione ecco dopo aver proceduto con la configurazione vi faccio vedere lo schermo allora questo è uno dei primi ecco qui avete uno dei tanti nuovi c'è anche questo metallo liquido questa è la nuvola di vapore sistema solare questa è un'altra configurazione molto interessante perché avete le applicazioni disposte in questa maniera qui abbiamo il calendario questo è il raggio uv e temperature qui abbiamo il cronometro e questa invece l'attività svolta durante il giorno come vi dicevo appunto su questo nuovo apple watch avete la misurazione anche del battito cardiaco adesso vabbè non è posizionato sul sul polso quindi misura l'ultima l'ultima migliorazione di 8 minuti fa questa è la possibilità di programmarsi un'attività fisica praticamente ci sono tutti gli sport e questo è il timer vi misura le calorie il totale dei minuti che fate di salita eccetera eccetera questo è un altro un'altra configurazione diciamo dalla visuale messa da me magari le applicazioni più utilizzate qui invece avete la panoramica di tutte le applicazioni io non le ho ancora installate tutte quante perché mi interessano per il momento solo queste qua sono le applicazioni sufficienti però potete anche chiamare fare le telefonate questo apple watch non ha la possibilità di farlo perché non ha la sim integrata l'ho scelto senza sim integrata comunque il telefono lo ce l'ho sempre con me in ogni caso si sente benissimo c'è una nuova possibilità anche quella tra apple watch e apple watch di utilizzare il worky tolky e spero che questo video vi sia piaciuto praticamente questo apple watch funziona esattamente come quello vecchio ha qualche applicazione in più ma vi posso assicurare che a parte queste minime cose tipo sentire il movimento qui della rotellina quando si fa scorrere si sente proprio un tac tac come se fosse una rotellina meccanica ma poi altre cose nuove si ci sono delle schermate così nuove carina senz'altro però alcune cose ci sono anche nel vecchio apple watch ad ogni modo a me piace moltissimo il mio si era come avevo detto era esploso e fortunatamente è arrivato questo per natale allora io vi invito a iscrivervi a lasciarmi un commento e dirmi se anche voi avete questa tipologia di orologio e niente vi saluto e ci sentiamo alla prossima grazie 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 grazie